buonasera e benvenuti oggi siamo allo spettacolo un disco un libro un film siamo con andrea giovanni e armando buonasera ragazzi benvenuti su radio rebel allora ragazzi raccontaci un po di questo spettacolo che vedremo fra qualche minuto proprio qualche istante lo spettacolo è un disco un libro un film un teatro comico con una musica live un'idea che abbiamo avuto insieme a stefano zizi che abbiamo già portato in teatro lo scorso maggio e racconta un po la storia della cultura della musica italiana 70 80 ma andiamo anche un po c'è la nostra musica dal vivo la musica degli studio 82 e poi c'è la parte diatrale di italia terra dove lo stesso cristos ministros non si ricordano nada e 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 non si ricordano nada o italia ooooh italia due ore stanno inverni girosamente quasi tutti i gratini della gerarchia aziendale anche tre a tre impiegato di settima impiegato di settima scrivania in monaco il mogano poltroncina in scaio finta pelle telefono pianta di ficus simbolo del potere impiegato di quinta lampada di opalina piano di cristallo naif jugoslavo le pareti e due piante di ficus impiegato di prima quattro piante di ficus tre telefoni di tafono sei quadri naif da beto e bocchetto per terra dagli sui 82 un disco libro un film un saluto a radio 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 ciao ciao